La società consolidata nel territorio di appartenenza, nei numeri e nell'organizzazione di eventi è la Pallavolo Motta, la società trevigiana di Motta di Livenza che opera a ridosso delle province di Venezia e Pordenone. Noi abbiamo circa 200 tesserati tra il maschile e il femminile. Maschile iniziamo dal mini volley con l'Under 14, Under 16, prima divisione è la squadra che ha giocato questa sera la Serie C, femminile abbiamo sempre mini, ragazze dell'Under 14, c'è anche un gruppetto dell'Under 12 e la seconda divisione. La squadra in esame è Liveco Marmi che prende parte al campionato di Serie C maschile. L'anno scorso l'obiettivo era quello di allestire una squadra dei giovani e di farli crescere. Diciamo che abbiamo ottenuto un risultato oltre le aspettative perché abbiamo fatto i play-off per la promozione in Serie B, dunque è stato un ottimo risultato inaspettativamente. Quest'anno abbiamo allestito una squadra più d'esperienza con giocatori di categoria e con giocatori che hanno molti anni di pallavolo sulle spalle, appunto per puntare a vincere questo campionato perché la società si aspetta di fare il prossimo anno la B2. Anche Liveco Marmi Motta punta ad un obiettivo importante, dopo aver disputato i play-off promozione nella scorsa stagione. Questi anni le ambizioni sono importanti e speriamo di riuscire a raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissi e che sicuramente è l'alta classifica. Dopo dipenderà da noi come lavoriamo e che percorso faremo durante il campionato. L'inizio non è stato dei migliori, però era prevedibile che abbiamo bisogno di un po' di tempo per amalgamare questi giocatori. Io confido comunque che nel breve tempo riusciamo a raggiungere dei buoni livelli di gioco. Per puntare alla promozione Liveco Marmi ha cambiato buona parte della Rosa. Sentiamo i dettagli dall'allenatore. È quasi la metà, abbiamo cambiato praticamente i sei dodicesimi, per cui chiaramente le intese tra i giocatori devono essere lavorate. Quindi abbiamo bisogno dei tempi, non è che si può improvvisare subito delle squadre. Ripeto, gli individui d'età sono importanti, per cui penso che in un breve periodo riusciamo a esprimere una buona pallavola. Se è vero che è arrivato qualche giocatore d'esperienza, è altrettanto vero che ogni anno dal settore giovanile sbarca in prima squadra qualche atleta. Quest'anno è arrivato Paolo Girotto. Nel giovanile ho comunque giocato per parecchi anni e quest'anno c'è stata appunto la sorpresa di entrare in Serie C. Non è che mi aspetti tanto per il momento, perché vedo che c'è una grossa differenza di tecnica soprattutto. E' questo. Spero comunque di arrivare al loro livello. La pallavolo Motta ha guadagnato anche quest'anno il marchio di qualità del settore giovanile e collabora con le vicine realtà di Chiarano e Meduna di Liventa. Nel territorio è una società di riferimento. Nel territorio qua penso che dopo il San Donà, l'Iveco Marmi sia la seconda realtà, escludendo ovviamente la Sisley. E' una società nata 40 anni fa, di fatti quest'anno festeggeremo probabilmente con qualche manifestazione, stiamo già organizzando qualcosa anche a livello di partite con squadre di Serie A. Festeggeremo i 40 anni della società, una società che aveva raggiunto all'inizio degli anni 90 anche degli ottimi risultati, arrivando in Serie B nazionale. e adesso stiamo puntando di nuovo ad arrivare a fare prima di tutto un ottimo campionato e poi se viene la promozione tanto meglio.